Sì, con voi, è vero, non mi potete andare a capire di amare sentita. E bravissima, la penna per chievo temperata. Ma non fa la pena di disegnare un paracallo a tutto il futuro. Una paracalla, una paracalla a la praspetta. Sì, con voi, è vero, non mi potete andare a capire di amare sentita. Queste scusi, signorina, a votare. Sì, con voi, è vero. Sì, con voi, è vero. Sì, con voi, è vero, non mi potete andare a capire di amare sentita. Sì, con voi, è vero. 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 le reciteri se tira, le reciteri se tira esprusa da tupere, a mi se apera, e si, 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 si! Si, 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 si! Si, 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 si! E si, 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 si! Signorina, un'altra volta quando partano da fuori a Suomota Vadafra significa sì non sia la casa morta, non sia la casa morta cosa metto per quella porta? cosa metto per quella porta? Un botto della mia sole non si lascia nel mio occhio. Un botto della mia sole non si lascia nel mio occhio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info